No, no, aspetta, dai, dai, partiamo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing Era da un po' che non mi vedevate, eh? Sì, beh, in effetti sono stato un po' latitante No, è uno scanner gigantissimo Via la confezione di vendita Anzi, questa è la confezione di vendita Giriamolo, eccolo qua CZUR Ok ragazzi, ho fatto un'ispezione a questo paccone gigante È praticamente uno scanner proprio 3D Quindi di quelli proprio professional Qui all'interno abbiamo un bellissimo manuale Che è in lingua italiana, tradotto veramente bene E qui dall'immagine potete capire che Non è uno di quegli scanner classici Dove praticamente c'è una parte da chiudere Eccetera, eccetera Ma è uno scanner aperto Quindi uno scanner veramente innovativo All'interno abbiamo anche la garanzia Un CD per installare il software sul vostro computer E volendo si può scaricare anche un'app Nella recessione completa che farò tra qualche giorno Farò vedere proprio come funziona Questo lo lasciamo un attimo da parte All'interno abbiamo anche un tasto USB Che permette di far partire la scansione Però giustamente se voi avete le mani impegnate Come procedere alla scansione C'è anche un pedale Un pedale sempre Che si collega in USB Lo si mette sotto al tavolo Sotto la schivania E si fa la scansione Quindi le mani saranno impegnate a tenere Il libro o il foglio Madonna è proprio fortissimo da togliere Ci ho messo un quarto d'ora E qui sotto ci sono dei tasti Che servono appunto per la scansione Qui c'è un zoom avanti Zoom indietro Fai partire la scansione Quindi o dai vari comandi Pedale e quant'altro Collegati in USB Oppure da qui E qui c'è la luce Dietro abbiamo ovviamente La porta USB per collegare Quegli accessori che vi ho fatto vedere prima Il tasto di reset Abbiamo poi il collegamento USB al PC L'alimentatore E qui c'è il tasto di accensione e spegnimento Sotto c'è la basetta Molto bella Con il modello che ve lo faccio vedere È l'ET16 Plus Eccolo qui Il modello è l'ET16 Plus Io per questo piccolo breve unboxing Credo di aver dato tutto Il design è veramente importante per questo prodotto Non vedo l'ora di provarlo Per vedere un attimino come funziona E se è veramente figo come pare di essere Grazie e al prossimo video Ciao